L'ingresso della Sicilia nella cosiddetta zona gialla consente la riapertura dei musei, sebbene ad esclusione dei weekend. Dalle lunedì al venerdì, quindi, saranno nuovamente aperti e visitabili il Castello di Donna Fugata dalle 9 alle 17, il Museo del Tempo Contadino di Palazzo Zacco dalle 19 alle 13 e 30, dalle 15 alle 18, con ingresso gratuito, e infine il Museo l'Italia in Africa dalle 8 alle 14. Con la riapertura di Donna Fugata, dichiara l'assessore alla cultura di Ragusa Clorinda Arezzo, prenderanno avvio inoltre due nuovi servizi, la Card Amici di Donna Fugata e percorsi guidati al parco. Come amministrazione abbiamo scelto di non subire passivamente le recenti limitazioni, ma di considerarle un'opportunità per potenziare o avviare ex novo alcuni servizi, fondamentali per la città. Quante volte avremmo voluto, continua l'Arezzo, vivere il giardino di Donna Fugata non come appendice del castello, ma come un parco indipendente dove leggere un libro, scaldarsi al sole o perdersi nel labirinto. Adesso sarà possibile sia acquistare il biglietto di ingresso al parco a 2 euro, reso ormai indipendente dalla visita al castello, sia acquistare la Card Amici di Donna Fugata, che al costo di 20 euro offre ingressi illimitati al parco. Con un piccolo gesto, non solo ci si riappropria di questo luogo straordinario, ma si contribuisce attivamente alla sua valorizzazione e conservazione. Il parco, che sarà approssimamente oggetto di azioni di restauro in queste settimane, ha inoltre subito un atteso, per quanto basilare intervento, l'installazione di una mappa che indica i sentieri del parco, dando l'opportunità di scoprirlo in 15 tappe, contrassegnate da cartelli bilingue di approfondimento tra esoterismo e architetture neoclassiche. La Card Amici di Donna Fugata e i percorsi guidati al parco rappresentano le prime due iniziative per Donna Fugata, tra le numerose che prenderanno avvio nei prossimi mesi. Grazie a tutti.